Musica Ci troviamo oggi alla clinica Sant'Anna di Asti dove potremo vedere alcune fasi di osservazione e cura nell'ambulatore del professor Ligresti il professor Ligresti è specialista di chirurgia plastica e chirurgia generale e direttore dell'Accademy IAVC di Asti, del Polo Universitario di Asti Ecco, professore, che cosa vedremo oggi? Oggi vedremo alcuni pazienti di una lunga lista di pazienti che in genere arrivano e si approcciano a questo ambulatorio Abbiamo in cura molti pazienti, il nostro archivio è molto ricco e la nostra attività, essendo multidisciplinare nel senso che ci avvaliamo anche della consulenza di altri specialisti come dermatologi, ortopedici, chirurghi vascolari, diabetologi, fisiatri appunto la nostra attività, essendo multidisciplinare attira l'attenzione di pazienti anche di altre province Abbiamo pazienti della provincia di Alessandria, di Torino, di Cuneo e anche addirittura pazienti che vengono dal sud Sud Italia, Calabria, Sicilia, Campania per cui vedremo alcuni pazienti dei tanti che sono previsti Ricordiamo quanto sia importante la prevenzione per la cura di queste ferite e quanto sia importante anche intervenire immediatamente non lasciare che le cose vadano da sé Sì, è molto importante la prevenzione e in questo facciamo sempre tante raccomandazioni non solo ai pazienti ma anche ai loro parenti, amici che li seguono perché a volte purtroppo questi pazienti non sono ben accompagnati vivono da soli in ambienti anche non perfettamente igienici e quindi anche la medicina di base la medicina generale dovrà darsi da fare nel prevenire queste patologie magari seguendo un po' più da vicino questi pazienti e cercare quindi di collaborare con noi per l'attività di cura ma anche e soprattutto di prevenzione Ricordiamo quindi, professore, di quali patologie stiamo parlando e anche quanto sia importante l'alimentazione per evitare patologie di questo genere? Sì, guardi, mi ha dato un assist importante la nutrizione è fondamentale è fondamentale perché ci sono da una parte pazienti iponutriti quindi che non mangiano per motivi vari e quindi non hanno la stoffa non hanno la qualità, la possibilità di cicatrizzare queste ferite che sono già complesse dall'altra ci sono pazienti obesi che sono anche diabetici e quindi hanno difficoltà a cicatrizzare per altri motivi quindi la nutrizione, il seguire questi pazienti anche sotto l'aspetto nutrizionale è molto importante ma non solo ci sono pazienti che hanno bisogno anche di cure supplementari per esempio è molto importante il trattamento domiciliare il trattamento infermieristico che collabora con noi in maniera egregia sia gli infermieri qui della provincia di Asti ma anche altri infermieri delle altre province quindi questo filo diretto tra noi specialisti medici di medicina generale gli infermieri dei distretti e altri specialisti di altri settori è una regia che compete al caregiver cioè a me in questo caso visto che siete venuti a trovarmi che coordina tutto questo perché se non c'è un coordinamento il paziente viene un po' lasciato a se stesso e vediamo quindi una terapia specifica per la cura di una ferita difficile la terapia biofotonica la terapia biofotonica è una terapia innovativa che viene, proviene dagli Stati Uniti anzi in particolare dal Canada è stata inventata alcuni anni fa per curare malattie infiammatorie della pelle adesso è approdata in Europa solo in Italia Asti rappresenta uno dei centri di riferimento per la cura con questo tipo di tecnologia noi abbiamo questa macchina da un paio d'anni la utilizziamo per sterilizzare le ferite e per far ricrescere i tessuti che mancano questo detto proprio in parole povere come funziona? funziona con l'incontro di un gel cromoforo e la luce che viene emanata dallo strumento si creano praticamente tre tipi di lunghezza d'onda che hanno la possibilità di creare un'attività antisettica attraverso lo sviluppo di ossido nitrico e un'attività di riproduzione cellulare con la stimolazione dei fibroblasti delle fibre collagene per cui una doppia azione sia di sterilizzazione sia di ricostruzione e quanto dura e se il paziente sente qualcosa? il paziente sente pochissimo sente soltanto una sorta di calore corrispondente alla zona della ferita dura circa 5 minuti ogni trattamento e viene replicata una o due volte alla settimana per un numero di volte necessario l'efficacia scientifica di questo trattamento? sono stati scritti già alcuni lavori di ricerca a livello internazionale noi ne abbiamo prodotti alcuni e come direttore dell'Accademia portiamo avanti questi studi anche a livello proprio accademico quindi come scuola del Polo Universitario di Asti la Italian Academy Wunker si è proposta nella divulgazione e anche nella promozione di questo tipo di tecnologie abbiamo già visto qualche immagine alle sue spalle abbiamo un secondo paziente è un secondo caso che sta trattando quale metodologia sta applicando e quale patologia sta curando dunque si tratta di un paziente con una patologia cronica di ulcerazioni per deformazione del piede in paziente con diabete mellito un po' scompensato chiaramente sono pazienti con il classico piede di Charcot un piede complesso che ha avuto delle deformità anche di tipo osseo è stato già operato alcune volte abbiamo riparato una lesione del calcagno del tallone con una osteotectomia e con un lembo di rotazione abbiamo anche fatto una detersione recente di una nuova ulcera della sede plantare che oggi andiamo di nuovo a pulire qui in ambulatorio il paziente sta facendo anche una terapia a pressione negativa una vac therapy che serve ad aspirare i liquidi in eccesso perché? perché dobbiamo portarlo al punto in sala operatoria da potergli fare poi un innesto cutaneo quindi questo è un trattamento preparatorio esatto un trattamento preparatorio che sfrutta sia la detersione con un bisturi ad ultrasuoni che è quello che ho alle mie spalle che è un bisturi particolare che si può utilizzare anche in ambulatorio non è doloroso assolutamente ed è una novità assoluta di tipo tecnologico nella nostra attività e poi sfrutteremo di nuovo la terapia biofotonica che è quella che sterilizza il più possibile questo tipo di lesioni in preparazione appunto all'innesto cutaneo quindi si immagina per aumentare l'efficacia poi del trattamento in sala operatoria esatto tutto questo serve per ridurre i tempi di guarigione per far sì che il paziente intanto guarisca e non rimanga con queste ulcere in maniera cronica per tantissimi anni questo è il nostro obiettivo noi abbiamo un indice di guarigione a 60-90 giorni altissimo cioè quasi tutti i pazienti più del 90% guariscono in una fascia di tempo da quando iniziano il trattamento quando lo finiscono più o meno in questo arco di tempo e terminiamo quindi questo appuntamento alla clinica Sant'Anna dove il professor Ligresti ha visitato alcuni pazienti in merito a ferite difficili con la conoscenza di un'altra strumentazione questo è uno strumento tra virgolette antico perché riguarda il trattamento con l'anidride carbonica medicale che non è l'anidride carbonica dei tubi di scappamento delle auto ma è medicale è quella che si usa tanto per essere chiari in chirurgia generale o in altri tipi di chirurgia per rendere più facile l'approccio laparoscopico quando vogliamo penetrare nell'addome con una sonda e vedere quello che c'è dentro dobbiamo riempire d'aria la parete all'interno della parete addominale per poterci permettere di vedere con le telecamere quindi questo tipo di anidride carbonica viene utilizzato anche per migliorare il flusso sanguigno per far sì quindi che patologie come le ferite difficili le ulcere cutanee di tipo vascolare possano essere curate e anche nella prevenzione di queste patologie ulcerose quindi questo è lo strumento che vedete qui è uno strumento con un computer di bordo diciamo la bombola sta dietro noi lo azioniamo con un pedale l'emissione dell'anidride carbonica attraverso questo piccolo aghino viene infisso all'interno della cute non è assolutamente doloroso e iniettiamo un quantitativo di anidride carbonica per ogni punto di infissione è un trattamento molto rapido dura un quarto d'ora circa il paziente lo fa settimanalmente e questo serve molto abbiamo dei lavori scientifici ormai di lunga data e tantissimi che sono stati pubblicati per far sì quindi che questi pazienti a livello circolatorio abbiano un bel beneficio e rivolgiamo quindi un ultimo invito a chi volesse prenotare una visita presso il vostro ambulatorio sì beh è chiaro il nostro è un ambulatorio nato anche per motivi sociali il motivo sociale è inteso nel senso che la prima visita di questi pazienti è sempre gratuita l'importante è che abbiano un foglio una ricetta medica da parte del medico curante che li segue normalmente e poi i trattamenti che facciamo qui hanno veramente dei costi irrisori abbiamo la fortuna di avere alcuni materiali donateci dalle aziende delle medicazioni o dei vendaggi per cui riusciamo a mantenere dei costi abbastanza bassi per cui pazienti che hanno piacere di venire a sentire un parere e poi essere seguiti possono sempre farlo telefonando qui alla clinica Sant'Anna di Asti ricordiamo quindi dove si trova la clinica la clinica si trova ad Asti l'ambulatorio è aperto tutte le settimane in genere al venerdì e il numero di telefono lo vedrete credo in sovraimpressione sul monitor e ci piace concludere questo appuntamento a Sant'Anna con una ragazza che era stata studentessa di un corso dell'Academy che è seguita dal professore Ligresti che oggi lavora proprio col professore Ligresti all'Academy è stata molto interessante mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze fatte prima all'università e soprattutto mi ha dato la possibilità poi di venire a lavorare dal dottor Ligresti sono libera professionista e nel frattempo sono stata assunta qua anche nel suo ambulatorio quanto tempo è passato dal corso all'abilitazione pratica? due anni fa sì due anni fa e poi sono stata chiamata per questa esperienza grazie a tutti